Tutto come previsto, Teramo e Campobasso sono escluse dalla prossima Serie C. La decisione del Consiglio federale in programma questa mattina non ha modificato quanto già era stato decretato dalla Covizoc non più tardi di una settimana fa. Il mancato rispetto dei paletti per riscrizione al torneo 2022-2023 non poteva che portare alla conferma di stamane. L'assise odierna, tuttavia, non farà terminare la battaglia legale del diavolo che, vista la pronuncia negativa anche oggi, potrà andare dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI cercando di far valere le proprie ragioni. L'udienza dovrebbe svolgersi intorno al 18 luglio. Di fatto, coi tempi, a fine mese si avrà la certezza, almeno dal lato sportivo, il documento che approva la rateizzazione dell'IVA non versata nelle stagioni precedenti, dal 2016 al 2019, arrivato nei giorni scorsi, non potrà entrare a completare la domanda di iscrizione che manca, peraltro, anche dell'allegato relativo all'indice di liquidità dello 0,7 per cui servirebbe una ricapitalizzazione vicina al milione di euro. È evidente, in ogni caso, che Biancorossi e Rossoblu Molisani ci proveranno fino alla fine anche rivolgendosi alla giustizia amministrativa dopo quella sportiva. Con una precisazione, nel Tar e neppure il Consiglio di Stato, in seconda battuta, potranno entrare nel merito dell'ordinamento sportivo, ma soltanto rilevare se ci sono norme valide che regolano l'iscrizione ai campionati e se queste sono state correttamente applicate. È chiaro che si tratta di una battaglia complicata, al limite dell'impossibile, e il Teramo, per questo, non vorrebbe farsi trovare impreparato per un eventuale piano B. Nel frattempo è slittata anche la decisione sullo sblocco delle quote di maggioranza del Teramo collegate alla Greensports Italia SRL, società a sua volta controllata dalla Edil Green di Massimo Chierchia, amministratore unico del club. Proprio quest'ultima azienda, mesi fa, è finita nel decreto di sequestro che ha riguardato diverse aziende nell'applicazione di misure di prevenzione. Questi, tuttavia, sono argomenti che, in un frangente drammatico, sportivamente parlando come questo, entrano relativamente nella discussione all'interno di una tifoseria che vede scarpar via il mondo del professionismo a un decennio dal campionato di Serie D vinto sul campo di Atessa.